buongiorno a tutti ragazzi e bentornati nel canale oggi abbiamo appena finito di realizzare questa spettacolare libreria lava in finitura bronzo patinato questa è una finitura unica e nuova non l'avevamo mai realizzata prima sulla libreria lava è veramente fantastica come finitura in quanto anche al tatto e quando toccate la libreria riuscite a sentire una sensazione proprio di matericità ok all'elemento questa libreria nello specifico è stata realizzata per il nostro nuovo atelier che stiamo per aprire in piazza san marco a venezia lo apriremo verso metà luglio potrete trovare all'interno l'intera collezione dei nostri capolavori di arte design esposti l'atelier sarà aperto tutto l'anno se siete a venezia o dalle parti limitrofi insomma sapete che da luglio potete avere la possibilità di andare a vedere i nostri capolavori in piazza san marco a venezia detto questo adesso vi faremo passare anche delle clip da più da vicino in modo che potete vedere la matericità di questa finitura che è fantastica la libreria lava è uno dei nostri oggetti di design viene fatta totalmente a mano in italia come potete sapere chi ci segue tutta la nostra produzione è fatta appunto in veneto in italia non abbiamo oggetti che vengono fatti con l'impiego di macchinari questo per tenere una qualità ad altissimi livelli e un'esclusività anche unica per i nostri clienti il design di lava è registrato in tutto il mondo in quanto è un design unico è stato studiato molto a lungo per riuscire ad avere questo design unico ed esclusivo su questa libreria godetevi le clip che passano se siete a venezia ricordatevi da luglio in avanti di venire a trovarci nel nostro nuovo atelier che stiamo che stiamo aprendo iscrivetevi al canale rimanete sintonizzati per i prossimi video spettacolari dei nostri prodotti grazie a tutti per la visione di questo video ci si vede